Alesi D'Amalo, centrocampista centrale. A che giocatore ti piacerebbe assomigliare e perché? Ad Andrea Signesta per la sua classe e basta. Il compagno di squadra che ti fa ridere di più durante gli allenamenti? Martino Tesprini. Quali sono i tuoi pregi e i tuoi difetti in campo? Pregi, forse, eleganza, difetti, determinazione. Qual è il tuo numero di maglia preferito e perché? Sei per... boh, perché è il mio numero fortunato. Qual è lo sport che preferisci o tra il calcio? Tennis. Qual è la materia che preferisci a parte ginnastica? Religione. Che cos'è il calcio per te? Un divertimento. Qual è la tua squadra preferita? Inter.